E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi siamo qui di nuovo su Giochi Bastardi E di nuovo su Geometry Dash Ma questa volta non faremo i livelli classici Bensì, i livelli degli utenti più bastardi che mai Oddio Siamo subito pronti e ragazzi, 8000 mi piace ai prossimi episodi di Giochi Bastardi Mi raccomando, continuate a suggerirmi qua sotto Giochi Bastardi per i prossimi episodi Ma adesso, cominciamo a cercare livelli stronzi Vai, pronti col primo Oddio Cazzo, questo è difficilissimo Guardate quanto sono pro Tiè, meglio di così Mamma mia che pro Non mica ve lo immaginavate Dexter così pro player, eh Mamma mia, guardate Con una mano mi accarezzo Sistiamo i capelli, con l'altra Guardate che pro che sono, mamma mia Mamma mia La miseria Oddio Stavo morendo Oh cazzo Dai, cominciamo con un hard Ce la possiamo fare Salve Ole Ecco Oh Dai, che questo mi sembra abbastanza semplice Dai, ce la possiamo fare Ole 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 E andiamo Ciao Lol Sì Lol un cacchio Oh, potevo andare pure sotto Ecco Dove fa sti livelli Vi drogate pesantemente voi, eh Giù A proposito Suggeritemi qua sotto Livelli degli utenti bastardi Magari per un prossimo episodio E vabbè Sì Certo Ciao Ciao E andiamo E andiamo Ok Con calma Che cazzo devo fa' qua Dai che non andiamo a finire Dai che siamo dei pro player super hd ultra power Oh Vabbè Ah Pasta 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 Dai proviamo questo L'incubo Il mio incubo I livelli bastardi Mo te lo faccio vedere io Altro che incubo Ti è Dai Mamma mia Ce la possiamo fare Ce la possiamo Mannaggia stai stellette ninja del diavolo Ecco Dai Uh Oddio Non ci sta capendo un cacchio Ok dai Ho imparato come si fa ora Ho imparato come si fa La strada in disce Fanculo Pasta Ciao Fantasia estrema Ecco Cominciamo bene Morice 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 ancora Morice Non sei buono a giocare Chi è il pro player Su cazzo Vabbè Allora Sì vabbè Ciao Ciao Pure questo Ciao Fantasia E' meglio E' meglio l'incubo Vota per il demonio Dai Votiamo per satana Oh Ma che cazzo Beh tutto automatico Yeee Abbiamo finito Andiamo Demonio Per diavolo Pronti dai Oh Ma questo non l'ho già fatto Deja vu Non l'ho fatto tre secondi fa A questo livello Qui qualcuno frega i livelli Eh Dai E non lagga tutto Non si riesce a capire un cazzo Basta 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 Free stars Stars Bello Interessante Molto difficile Che sudata per farlo Dai proviamo questo Easy machine Dai Dal titolo sembrerebbe facile Ecco Ecco Appunto Oh Non ci sto capendo niente Vai quadradino Corri Corri Guai quadrato Vai cubo Cubetto mio Sì Ti adoro Ma vaffan Cubo Dai Mamma mia Stavolta Ce la facciamo a finire Lo sto livello Me lo sento Vabbè Allora Eh Non è possibile Non posso andare avanti così Aaaaa Sì vabbè Lagga tutto Ciao 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 Garu Premiamone uno normale Normale Uno due tre Cioè E quindi Ok Salti E finisci il livello L'utilità We are the champion Mi sta a pia per culo No perché secondo me Mi sta a pia per culo Flappy bird Oh oh Ho paura Porca troia No questo lo dobbiamo fare assolutamente Vai Vai stupido uccellino Vai Oh 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 E andiamo Vai buzz light ear E andiamo Chi è il miglior Chi è il miglior Chi è il più bird Turn To cool Proviamo challenge Proviamo questa sfida Dai Iniziamo bene E vabbè Sì È impennato È un po' troppo Crepa subito La sfida qual è? Riuscite a finire il livello Senza bestemmiare? Ole Ah sì certo Dai Ma perché al contrario? Non l'ho toccato Vabbè Sì Sì certo Certo Dai Trolla Trolla Sì Ma che è? Sì vabbè Sì ok Sì Allucinazioni Oddio Ci sto cavendo un cazzo Vai No vabbè Qui partono gli occhi eh Ma che cazzo era Oh Dai Ci sto cavendo un cazzo Ah gli occhi Scoppiano Perché? 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 No Vabbè Allora ho bisogno di una sfida più difficile Questa è troppo facile Ce la possiamo fare Questa sfida è impossibile Oddio Non ci sto cavendo niente Dai 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 che ce la facciamo Dai che ce la facciamo E andiamo Oh Guarda che pro player Che sono Mamma mia Oddio Dai 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 Ce la posso Oh Addirittura Guardate Vabbè Allora quando uno nasce pro Nasce pro eh Pen 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 Oh Sto sudando Mamma mia Sto sudando Me la regge un attimo Oh Con la forza del pensiero E andiamo Basta Sono il miglior giocatore di Geometry Dash E andiamo così Tutto a posto Tutto a posto Bene ragazzi Questo era Geometry Dash 7000 mi piace Al prossimo episodio Dei giochi bastardi Continuate a suggerirmi I giochi più stronzi Qua sotto in un commento Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Io vi mando Un abbraccione Un salutone E ci diciamo gente Ciao a tutti